Bentornati a tutti quanti qua su F1 in generale dove andiamo a commentare ogni sessione di ogni Gran Premio di gara andando a analizzare quelle che sono i passi gara e tutte quante le telemetrie delle macchine in pista quindi per non perdervi nessuna novità sulla Formula 1 o di tutte quante le 10 scuderie vi ricordo di iscrivervi al canale e di seguirci su tutti quanti gli altri social Si è appena conclusa la giornata del sabato del Gran Premio di Monte Carlo dove abbiamo visto delle prove libere 3 e una qualifica molto tirate anche le prove libere 3 sono state tantissimo incentrate su quello che è stato principalmente la preparazione della qualifica visto che per conformazione del circuito è praticamente quasi impossibile passare e in questo caso la qualifica conta quasi come una gara ed è per questo che i team cercano di estremizzare l'assetto portando all'esasperazione la propria macchina per riuscire a stare davanti a tutti quanti in qualifica questi sono i risultati della terza prova libera dove vediamo ancora una volta uno Charles Leclerc davanti a tutti quanti seguito da Verstappen ma non così tanto vicino due decimi di differenza poi dietro Lewis Hamilton, Piastri, Perez Sainz si ferma solamente alla settima posizione e anche Norris si trova dietro al compagno di squadra ci stupiamo un'altra volta di vedere Tsunoda in palla ma secondo me c'è veramente poco da stupirsi perché da metà della seconda stagione Tsunoda è sempre andato benissimo non ha niente da invidiare a nessun altro pilota Aston Martin che continua comunque a ritrovarsi un po' in alto mare Aston Martin che fatica ancora di più mettendo un Fernando Alonso in decima posizione e un Lance Stroll in quindicesima anche Daniel Ricciardo non sembra riuscire a tenere tanto il passo di Tsunoda prove libere che sono filate per tutti quanti lisce tranne per Bottas che all'uscita della seconda curva della piscina tocca il muro e spacca il braccetto dello sterzo anteriore sinistro così portando a termine la sua sessione tutti gli altri sono stati veramente molto puliti e precisi una cosa così a Monaco è difficile da vedere però sono molto contento che questi piloti qua si trovino molto bene e riescano ad adattarsi questa macchina eccoci arrivati alle qualifiche dove avevamo capito ben poco quello che sarebbe potuto effettivamente succedere visto che comunque Red Bull con Max Verstappen e Perez sono stati abbastanza bassi con la mappatura motore quindi con poca potenza non facendo vedere appieno il loro potenziale sicuramente un tracciato come Monte Carlo non perdona soprattutto per quanto riguarda il traffico quindi non è solamente importante riuscire a preparare al meglio la macchina nel giro di preparazione ma anche tramite l'assetto ma è anche molto importante che ci sia una buona strategia e che gli ingegneri di pista facciano uscire i propri piloti nel momento corretto affinché durante il giro di lancio non si possa trovare degli altri piloti nel mezzo alla pista a farci degli impeding qualifica bellissima che ha visto una pole position di Charles Leclerc qui a casa sua la terza per la precisione qualifica meravigliosa, divertentissima, tiratissima dove tutti quanti erano veramente vicini l'uno all'altro in una pista del genere dove conta tantissimo il pilota è veramente bello vedere a che punto può arrivare il limite di guida di un determinato pilota qualifica però che ha lasciato tanto amaro in bocca per Red Bull e per Aston Martin infatti come vediamo dalla qualifica ad alcuno sono stati eliminati Joe, Bottas, Perez, Sergiant e Alonso Perez addirittura in diciottesima posizione quando è cruciale riuscire a fare dove è cruciale fare una bellissima qualifica per poter fare anche un'ottima gara Perez sbaglia finisce in fondo lasciando a tutti quanti la speranza di avere ancora un campionato costruttori aperto uguale a Fernando Alonso che ha trovato diverso traffico Perez invece si è lamentato che la macchina non andava da punte parti nel senso che non era né carne né pesce non si trovava assolutamente bene con la vettura Q3 che non ha risparmiato Ocon, Hulkenberg, Ricciardo e Stroll così facendo Aston Martin ha tutti e due fuori i piloti dalla Q3 Q3 che è stata sensazionale e divertentissima perché comunque un Alpine, l'Alpine di Gasly è riuscita a entrarvi andandosi così poi a piazzarsi in decima posizione con sopra di lui Albon poi Tsunoda, Hamilton, Verstappen in sesta posizione Russell, Norris, Sainz, Piastri e Leclerc per una pista così corta non c'è nemmeno poi così tanto gap perché Leclerc ha girato in 1'10'2'70' mentre Piastri ha girato un decimo e mezzo più lento di lui Verstappen invece ha girato tre decimi più lento di Leclerc questo perché nell'ultimo push dove avrebbe dovuto fare la differenza sbaglia la Santa Devota prende il muretto in uscita e ovviamente lì a quel punto il tempo è da buttare alza il piede e la qualifica è finita per lui molto bene Ferrari e McLaren che riescono a piazzare entrambi i loro piloti molto bene McLaren e Ferrari che riescono a piazzare i propri piloti nelle prime quattro posizioni sarà bello vedere domani partire Ferrari, McLaren, Ferrari, McLaren sicuramente ne vedremo delle belle anche per essere un circuito storicamente meno attraente come può essere Monte Carlo tornando ai tempi della qualifica è molto bello vedere come ci sia un decimo e mezzo di distacco tra il primo e Piastri quindi tra Leclerc e Piastri e un altro decimo e mezzo tra il secondo e il sesto che in questo caso è Max Verstappen Leclerc oggi ha dato tutto ha fatto una differenza sensazionale è stato preciso, perfetto e meticoloso ha studiato e ha provato questa qualifica già dagli premi minuti delle prime prove libere del venerdì si vedeva che già lui provava comunque a spingere e ha sempre cercato il giro veloce sapeva benissimo che a Monaco praticamente conta solamente quello e lui ha voglia, lui ha bisogno di vincere a casa sua visto tutte quante le sfortune che ha avuto e anche gli errori che ha fatto nel passato là qua vediamo molto bene in quali parti del circuito Leclerc è andato più forte di Piastri Leclerc ha fatto tanta differenza sulle parti veloci è bello vedere come anche nelle staccate si è fatto valere veramente tantissimo all'uscita del tunnel è andato molto più forte infatti si vede che ha staccato con una differenza di circa 2-3 km orari all'uscita del tunnel è andato molto forte infatti si vede che ha staccato con circa 2 km orari di velocità in più quindi molto profondo infatti andare a vedere anche quello che è il grafico del delta proprio su questa staccata ha preso tantissimo margine è andato a riperdere un pochino qui che sarebbe praticamente la zona della prima piscina dove poi infatti sulla seconda piscina Piastri è riuscito a recuperare un pochino ma nella zona della staccata della Rascasse si è praticamente ripreso quasi tutto quanto il vantaggio che aveva perso lì vediamo comunque che McLaren ha una velocità di percorrenza molto più elevata rispetto a Ferrari e lo notiamo molto bene anche nella curva prima del tornantino del Leclerc dove Leclerc ha fatto una velocità minima di 76 km orari mentre Piastri di 83 km orari c'è veramente tanta differenza anche comunque una differenza di stile di guida e di approccio alla curva ma qui vediamo anche dal grafico del delta come Piastri da ritrovarsi con quasi due decimi di svantaggio si è ritrovato con solo 27 millesimi quindi qui Piastri ha fatto veramente la differenza differenza che poi ha fatto nuovamente Charles con l'erogazione e con la velocità prima della staccata del tunnel da questa telemetria che è il giro veloce di Leclerc confrontato con il giro veloce di Verstappen vediamo dove l'olandese ha perso più tempo e un punto critico per lui è stato la chicane del porto dove entra nella chicane con un ritardo di un decimo e mezzo per poi all'uscita ritrovarsi con tre decimi di svantaggio praticamente ha perso un decimo e mezzo solamente lì cosa che poi va a recuperare dopo le chicane del porto fino ad arrivare alla rascassa dove poi riperde tutto quanto un'altra volta è il secondo gran premio di fila dove vediamo Red Bull veramente faticare con gli assetti e questo fa comunque sicuramente ben sperare per avere un campionato aperto anche per quanto riguarda e soprattutto per quanto riguarda il campionato costruttori visto che comunque non sembra riuscire a sistemare al meglio l'assetto della macchina per entrambi i piloti mentre a Imola nella notte tra il venerdì e il sabato erano riusciti a fare un miracolo aiutati grazie anche a una scia ovviamente qui a Monaco non hanno saputo aggiustare l'assetto nel miglior modo per riuscire a stare al passo con gli avversari già da inizio anno era stato detto che Ferrari sarebbe stata molto efficace e molto semplice da settare gli aggiornamenti stanno iniziando a farsi vedere sia quelli di Ferrari sia quelli di McLaren perché entrambi hanno fatto un grandissimo step in avanti e soprattutto è marcata un'altra volta la facilità di setting la facilità di mettere a punto la Ferrari oltre anche magari a una facilità di guida che avevano già delineato i piloti a inizio del campionato anche Mercedes dopo aver provato per tutte quante le prove libere due tipi di ali differenti stanno capendo e stanno cercando di rientrare nella quadra giusta con questa macchina cosa che non sta riuscendo a fare per ora Stone Martin ritrovandosi abbastanza indietro e in difficoltà spero comunque di riuscire a vedere anche la Stone Martin riprendersi perché si merita veramente di stare in delle posizioni più alte come se lo merita anche Tsunoda sono molto contento di vederlo lì soprattutto sta dominando il confronto con il compagno di squadra che non è assolutamente una cosa da poco molto bene riuscire a vedere anche Alpine così in alto non mi resta che salutarvi che darvi appuntamento a domani nel post gara per parlare di tutto quello che è successo durante la gara guardare i dati, le telemetrie e ritrovarci a chiacchierare e a discuterne nei commenti quindi io vi ringrazio per essere stati qua rinnovo l'invito di riscrivervi al canale e a tutti quanti i nostri social vi auguro un buon proseguimento di giornata e noi ci rivediamo domani dopo la gara ciao a tutti